Musica Ben trovati con l'informazione, apriamo il nostro giornale con la cronaca. Si è presentato ubriaco a casa di un debitore pretendendo i suoi soldi quando sono arrivati i carabinieri li ha presi a male parole finendo in arresto. La richiesta di aiuto ai militari di Trebasele che è arrivata da un uomo di Vorgorico ha seragliato in casa per difendersi da un impresario veneziano 39enne di Santa Maria di Sala con qualche precedente penale alle spalle. Era arrivato davanti al cancello del Padovano per avere il suo denaro che tra l'altro gli doveva per alcuni lavori non pagati. Arrivati sul posto i carabinieri lo hanno trovato aggrappato al cancello visibilmente sotto l'effetto dell'alcol. Irremovibile ha rifiutato di staccarsi e di fornire i documenti insultando le forze dell'ordine. Al secondo richiamo gli è stato appunto fatto dai carabinieri si è scagliato addosso spingendoli e cercando di colpirli prima di essere bloccato. Preso, portato in caserma, hanno cercato ovviamente di calmarlo ma niente da fare. Ha continuato il suo show fortunatamente senza colpire nessuno. Dopo una nottata passata nelle camere di sicurezza a smaltire la sbornia stamattina è comparso davanti al giudice. Doveva essere un pomeriggio di piacere e trasgressione invece ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Se l'è vista brutta un 36enne padovano collassato durante un'orgia con tre brasiliani. L'uomo si era messo in contatto con uno degli stranieri conosciuto su una famosa chat per organizzare incontri. Hanno deciso di incontrarsi a Padova e il brasiliano ha reclutato altri due connazionali un uomo e una donna. Residenti a Milano hanno prenotato l'online la stanza al quartiere Forcellini e organizzato l'incontro a Lucirosse. Puntuale, il padovano è arrivato con i 250 euro pattuiti. Attorno alle 16 l'uomo si è lavato e si è preparato al gioco a quattro. Gli stranieri si sono accorti che il padovano stava collassando, faceva fatica a respirare e rispondeva purtroppo a stento. Hanno chiamato il 118 che è arrivato sul posto con l'ambulanza. La polizia poi ha controllato i documenti di tutti i partecipanti all'orgia. I brasiliani hanno raccontato i dettagli dell'appuntamento. Non sono state emerse tracce di droga o di altre sostanze pericolose. Ancora da chiarire comunque le cause del malore. Non ha esitato a picchiare la guardia giurata che faceva di tutto per fermarlo prima di scappare poi a rotta di collo. Tutto per un misero bottino di 19 euro che però gli è costato l'arresto e un occhio nero. La scena da incontro di box si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri al centro commerciale Piazza Grande a Piove di Sacco. La fuga è durata poco perché nel frattempo è arrivata una pattuglia dei carabinieri chiamata dal personale del negozio che a Territo aveva assistito alla scena. In pochi minuti lo hanno scovato e quindi bloccato caricando lui e il vigilante su due ambulanze per farli medicare al vicino ospedale. Per entrambi la prognosi è di otto giorni. Trauma addominale per la guardia, ferita all'orbita sinistra e il labbro, invece per un occhio nero per il ladro. Dopo le cure identificato il ladro in un 38enne marocchino senza fissa dimora e con numerosi precedenti. I carabinieri della compagnia di Padova invece sono stati impegnati nello svolgimento di un pianificato controllo in città, in particolar modo nei parchi pubblici dai giardini dell'arena al parco Europa, al parco Iris allo scopo di prevenire e contrastare la diffusione di droghe in genere. Durante il servizio sono state controllate 54 persone. Gabri Mohamed, lui tunisino, 22 anni in Italia senza fissa dimora è stato sottoposto a perquisizione personale e veniva trovato in possesso di una bomboletta spray contenente gas lacrimogeno composto chimico assolutamente vietato e pertanto tratto in arresto per detenzione in luogo pubblico di aggressivi chimici. Il medesimo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza. E anche un cittadino nigeriano 44enne in Italia senza fissa dimora è stato invece fermato e denunciato in stato di libertà mentre cedeva un involucro con due grammi e mezzo di sostanza stupefacente. Si trattava di marijuana ad un 47enne italiano di Pianiga che invece è stato segnalato alla competente prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. E ancora un cittadino senegalese di 42 anni in Italia senza fissa dimora è risultato inotemperante all'ordine di lasciare il territorio nazionale emesso proprio dal questore di Padova. E infine presso il Parco Europa i cane antidroga CIR ha scovato nascosti negli anfratti e sotto le siepi alcuni involucri di cerofan contenente complessivamente 40 grammi di marijuana e 14 grammi di hashish. Antonio Ascione pizzaiolo napoletano di 45 anni è accusato di aver ucciso con 5 coltellate la ex moglie Maria Marchetta Mennella del 23 luglio del 2017 a Musile di Piave in provincia di Venezia è stato condannato oggi a 20 anni di carcere con il rito abbreviato dal giudice Massimo Vicinanza. Il PM Raffaele in Carradona aveva chiesto la condanna all'ergastolo. Ascione assistito dall'avvocato Pietramala era accusato di omicidio volontario aggravato da premeditazione futili motivi vincolo di parentela e minorata difesa oltre che di minaccia. il giudice non ha riconosciuto le aggravanti della premeditazione dei futili motivi e ha stabilito un approvvigionale di 50 mila euro per ciascuno dei due figli della coppia oltre a 30 mila euro per la mamma della vittima e altri 20 mila euro ciascuno per i 5 dei fratelli e sorelle della vittima. Ed è rabbia tra i familiari della vittima che dicono che non si sono sentiti tutelati dalla legge. Incidente mortale sul Boscon lungo la statale 50 tra Belluno e Sedico stamattina lo scontro tra due auto è avvenuto alle 10 e un quarto è morto è AT 75 anni residente nella zona di San Fermo in comune di Belluno a poca distanza dal luogo della carambola. L'uomo è deceduto dopo il ricovero all'ospedale San Martino di Belluno. Ad un mese dall'ultima decisione favorevole dell'arbitro per le controversie finanziarie arriva un nuovo caso per recuperare le perdite subite in investimenti questa volta si tratta di due coniugi di Padova quest'ultimi nel 2008 su consiglio dell'intermediario finanziario presso il quale detenevano i risparmi avevano investito una somma di 40 mila euro in obbligazioni Lehman Brothers all'epoca il titolo era già attenzionato ed è stato venduto loro dalla banca senza particolari raccomandazioni così invece il consiglio anzi il collegio ha ritenuto di poter risarcire il cliente con le perdite subite appunto condannando la banca a restituire una somma di 20 mila 510 euro corrispondente al valore dell'investimento iniziale e torniamo alla cronaca invece l'ex sindaco di Abano e di Montegrotto Terme Luca Claudio è stato ammesso in prova ai servizi sociali e farà ogni settimana alcune ore di volontariato in una cooperativa sociale a Vigonza in provincia di Padova hanno stabilito il tribunale di sorveglianza di Milano competente perché nel capoluogo Lombardo l'ex amministratore che patteggiò 4 anni per tangenti venne arrestato per un residuo di pena dopo la sentenza della Cassazione che rese definitivo il giudizio problemi per il traffico a nord-est invece viabilità in tilt questa mattina per un incidente dove un tir ha perso il carico lungo l'autostrada tra Vicenza-Est e Vicenza-Ovest in direzione Milano anche la viabilità alternativa è andata in tilt la coda in A4 ha superato i 15 km mentre altri 5 km si sono segnalati in A31 Valdastico Arrabbiato il governatore del Veneto Luca Zaia perché la bandiera della regione Veneto non dovrà più svettare sulle prefetture né sugli altri edifici sede di organi uffici statali e di enti di organismi pubblici nazionali la consulta infatti ha cancellato l'obbligo di esporre il gonfalone dichiarando illegittimo a livello costituzionale la norma della legge regionale 28 del 2017 che lo aveva introdotto dichiarandone illegittimità costituzionale la disposizione invade la competenza legislativa esclusiva dallo Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa prendete una palestra di nuova generazione gestita da giovani professionisti laureati in scienze motorie con tanta voglia di fare impresa ma che hanno deciso anche di devolvere parte del proprio tempo lavorativo per aiutare i disabili a ritrovarsi in palestra come tutti coloro che appunto la fanno i due giovani imprenditori hanno coniugato questa idea insieme al consigliere comunale di Padova Davide Meneghini hanno messo in piedi un progetto dal titolo Free for All una iniziativa che dà la possibilità di avviare un percorso di otto sedute gratuite in palestra per aiutare il proprio fisico a ritrovare la tonicità persa ogni persona ha la possibilità di avere gratuitamente grazie ad uno sponsor privato in supporto di un personal trainer che si occuperà totalmente della persona che aderisce al progetto patrocinato anche dal comune di Padova vediamo è partita una iniziativa dal titolo Move for Free che cosa che cos'è nel dettaglio? sostanzialmente si occupa di persone con disabilità in particolare di attività fisica per queste persone come centro abbiamo deciso di dedicare quattro ore alla settimana gratuite per persone con disabilità appunto come consta questo tipo di attività? allora c'è un laureato in scienze motorie all'interno del nostro staff siamo tutti laureati in scienze motorie le sedute durano un'ora all'interno della seduta viene fatto proprio attività specifica in base alla problematica del soggetto quindi si tratta di fare movimento ma è importante anche tutto quello che è l'aspetto sociale del fatto di queste persone che possono entrare in questo ambiente e quindi venire in contatto con noi i trainer e con i nostri clienti Davide Meneghini in questo progetto che in qualche maniera tu hai anche sposato sì ho fatto la consigliere comunale mi sento in dovere in obbligo di rispondere alla città di alcune necessità e appunto per la disabilità purtroppo non si fa tanto e appunto con la collaborazione di Carlo Alberto e Alessandro Masutti abbiamo pensato a questa iniziativa e diciamo che ci stanno dando tante soddisfazioni perché insomma portare all'attività fisica le persone disabili non è così semplice e farlo anche in maniera professionale farlo in maniera anche sensibile è una cosa in più che non tutti riescono a fare Tecno Bar e Food ci siamo è stata presentata infatti alla Camera di Commercio di Padova che ha un ruolo molto importante nella kermesse fieristica l'edizione 2018 di Tecno Food e Bar il salone biennale professionale per alberghi ristoranti bar attrezzature alberghiere prodotti alimentari e tecnologie il taglio del nastro avverrà sabato ricordo 6 dalle ore 11 con la presenza di Massimiliano Alaimo il più giovane chef della storia ad aver ottenuto una valutazione di tre stelle alla guida Michelin torna dunque in fiera l'atteso appuntamento con Tecno Bar e Food 2018 e insieme anche casa su misura ricordiamo 400 espositori 25.000 metri quadrati di superficie espositiva oltre 24.000 i visitatori registrati nell'ultima edizione vediamo il bio da 10 anni a questa parte è diciamo così nella testa degli italiani sì sempre di più la gente vuole ha capito che la qualità del prodotto è importante ha capito che un prodotto biologico quando fatto bene è sicuramente più sano e per cui tenendoci molto sempre di più la gente ha la propria salute insomma cerca prodotti che abbiano queste caratteristiche la terra veneta è votata al bio sì la terra veneta è votata al bio ha delle prodotti di veramente di eccellenza ha secondo me bisogno di uscire un attimino e di farsi conoscere di più Venezia il veneto è conosciuto a livello internazionale anche grazie al suo impegno oddio grazie per questa cosa perché diciamo che quello che noi abbiamo sempre fatto sia come associazione ma anche nel privato è quello di esportare il lavoro ormai io cito una città su tutte Londra che in questo momento è la capitale della mixology per cui del cocktail del bar di un certo momento sono tutti ragazzi italiani molti di loro sono passati attraverso gli alberghi di Venezia per cui Venezia il Veneto con la sua con i suoi alberghi con la sua recettività ha portato in tutto il mondo forse i migliori barman e i migliori professionisti questa mattina è stato presentato il progetto diversamente giunto alla quindicesima edizione inserito nella programmazione sociosanitaria ai piani di zona e da anni vede il coinvolgimento e la collaborazione con l'azienda ULS del comune di Padova ed altri comuni della conferenza dei sindaci della nuova provincia di Padova alcune iniziative saranno pensate appositamente rivolte anche ad alcune scuole superiori della città di Padova e provincia con l'intento di sensibilizzare studenti e docenti ai temi della salute mentale due gli appuntamenti il primo diversamente in piazza giornata padovana per la salute mentale dalle ore 15 alle ore 18 e 30 in piazza dei signori a Padova domenica 7 ottobre e poi mercoledì 10 ottobre con ciascuno è diverso emozioni arte e cultura della salute mentale giornata mondiale per la salute mentale dalle ore 9 alle ore 13 presso il centro culturale San Gaetano in via Altinate vediamo il progetto è la quindicesima edizione una manifestazione in dando di piazza ma ricca di numerose attività che cerca di coinvolgere che ha coinvolto tutte le associazioni di volontariato di cooperative sociali e soprattutto di familiari dei pazienti nel portare all'attenzione il problema della salute mentale che sarà la prima causa di disabilità nel 2020 sono numerose le manifestazioni vogliamo con questo contrastare la cultura dello stigma e far crescere una cultura della solidarietà e far capire che la malattia mentale può essere sempre curata e molto spesso guarita a partire da domenica 7 ottobre fino a domenica 16 dicembre ogni due settimane la domenica pomeriggio alle ore 18 lo studio teologico della Basilica del Santo a Padova ospiterà 6 per l'arte 6 concerti di musica da camera ciclo inserito all'interno di una rassegna dal titolo Musica al Santo per il Santo organizzata dalla veneranda Arca di Sant'Antonio in collaborazione con l'associazione musicale Mus Mus More Music il progetto musicale sarà finalizzato alla raccolta fondi per il restauro del dipinto del Trecento la Vergine con Gesù Bambino tra Sant'Antonio e San Francesco vediamo e questo progetto di restauro della Vergine completa un po' il desiderio che fu già di padre Enzo Poiana di restaurare tutte le madonne raffigurate nella Basilica e ormai ci siamo praticamente riusciti e questa lunetta è particolarmente interessante perché è molto antica ha una origine duecentesca dopo probabilmente sono stati fatti anche degli aggiustamenti delle aggiunte soprattutto nel Cinquecento però il suo nucleo è molto antico e quindi questo ce la rende ancora più cara e più interessante dal punto di vista della comprensione di chi è intervenuto e quali criteri sono stati scelti da chi ci è preceduto per rendere bella la Basilica è debutto a Venezia oggi nella sede della regione del Veneto della candidatura italiana alle Olimpiadi Invernali 2026 il duo d'attacco lo ricordiamo è quello di Milano Cortina dopo l'abbandono del Tridente che vedeva inizialmente anche la città di Torino bene è tutto per questa nostra edizione del giornale grazie per averci seguito e come sempre una buona visione dei nostri programmi grazie per aver guardato